Benvenuti a meteogiulianci.it, il tempo che farà mercoledì ebbene molte nuvole su tutta l'Italia, con piogge soprattutto al nord, ma piogge anche sulle regioni tirreniche per l'arrivo della perturbazione numero 2 di febbraio. Ma vediamo l'immagine del satellite virtuale, vedete il vasto ammasso nuvoloso in arrivo dalla Francia che già sta ricoprendo gran parte dell'Italia. Ecco allora il tempo che farà mercoledì, vedete le piogge diffuse sul nord Italia, le piogge sulle regioni tirreniche sul nord della Sardegna, le nevicate sulle Alpi oltre 600-800 metri. Vediamo le temperature previste, temperature previste invariate nella media sul nord Italia, questi sono i valori massimi di Orni, valori appena superiori alla media sulle regioni centro-meridionali sull'isole maggiore. Bene termino qui, vi ringrazio per l'ascolto.